La nuova indiscrezione su Uomini e Donne. Riguarda proprio Maria De Filippi. Dato il successo acquisito negli anni e la regina di Mediaset starebbe infatti programmando una nuova versione serale di Uomini e Donne. Accanto a lei ci sarà la sua fedele aiutante Raffaella Mennoia con la quale prevede di creare qualcosa di esplosivo quasi quanto Temptation Island Vita. La nuova edizione del programma andrà in onda sempre su Canale 5 in prima serata ma è ancora tutto da definire. Nonostante ciò Maria ha rilasciato un'intervista ad Alfonso Signorini per il settimanale che sarà pubblicato il 5 dicembre.In gran segreto Maria De Filippi sta preparando una versione serale, messa in onda a partire da febbraio, del suo programma quotidiano Uomini e Donne. Con lei in quest'avventura l'ha fidata Raffaella Mennoia per un qualcosa che si prevede come esplosivo in stile Temptation Island Vita. Maria è pronta all'ennesima rivoluzione ma con nuove idee per un format già vincente di suo punto non si sa ancora se continueranno le repliche della versione pomeridiana sul canale La 5 ma si suppone di sì dato che Maria si propone di creare qualcosa di nuovo e innovativo. Maria aveva già creato un'edizione serale speciale del programma incentrata totalmente sulla lettera di Gemma Galgani a Giorgio, si potrebbe quindi pensare ad un nuovo coinvolgimento della regina di Uomini e Donne dato il boom di ascolti che ha creato nel corso degli anni. Magari parlerà di qualche nuovo amore o forse tornerà sulle tracce di Giorgio, sebbene sia fuori dal programma da qualche tempo. Grazie per la visione!